Nel contesto di un'epica storia tra il pupone e la brillante conduttrice di Mediaset, la distanza incolmabile nella loro comunicazione sembrava un destino ineluttabile. Ormai trascorso un anno dall'annuncio ufficiale della fine del loro connubio, entrambi hanno trovato rifugio nell'abbraccio di nuovi compagni. Francesco Totti, insieme alla sua dolce metà Noemi Bocchi, e Ilari ha svelato la sua serenità accanto all'imprenditore Basset. In questo quadro di rinascita, emerge ora un annuncio sorprendente, che l'illustre quotidiano Repubblica non ha esitato a portare alla luce. La notizia impareggiabile è questa, Francesco Totti e Ilari Blasi avrebbero siglato un accordo epocale, ribaltando la situazione riguardo alla dimora tanto discussa. Si narra che le chiavi dell'insigne Longarina, residenza appartenente all'astuto Longarina della famiglia Blasi, siano state restituite con un gesto di grande riconciliazione. Intrigante è il fatto che sia stata proprio la tenace conduttrice del canale Mediaset a intraprendere il primo passo. Con determinazione, ha consegnato nelle mani degli avvocati rappresentanti della famiglia del suo ex marito le simboliche chiavi del centro sportivo di Ostia Antica, noto come la Longarina. Un luogo carico di significato, che ha assunto un ruolo centrale nel contenzioso degli ultimi mesi. La prospettiva dell'ormai leggendario centro sportivo, cuore pulsante della Totti Soccer School e custode del memoria Lenzo Totti, torna sotto il dominio di Totti. Questa notizia ha scatenato l'entusiasmo dei fan, i quali non possono fare a meno di fantasticare sul possibile ritorno della coppia. In questo atto di sorprendente conciliazione, emerge un messaggio di speranza e rinnovamento, dimostrando che anche le fratture più profonde possono essere ricomposte. Mentre il mondo sogna un ritorno delle due stelle al loro antico splendore, siamo tutti testimoni dell'incredibile potere della riconciliazione, anche nelle situazioni più intricate. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto.